Le politiche sociali, diciamo così, poi anche loro hanno bisogno della crescita per poter essere effettivamente realizzate. E allora però tutto poi torna a un problema, il denaro e lo sviluppo. Questa legislatura europea era nata con lo slogan verso la crescita. Le pare che si andano così? No, assolutamente no, ma mi riservo di vedere come continuerà questi cinque anni, questi due anni e mezzo che mancano potrebbero dare delle risposte sostenibili se venissero prese decisioni importanti. Abbiamo chiesto di parlare di reddito minimo garantito in Europa che sia affiancato a politiche attive del mercato del lavoro. Questo perché? Perché il reddito minimo può essere una misura importante se si accompagna a politiche di lavoro, a politiche di investimento sostanziali che sono le uniche che possono creare nuovi posti di lavoro. I settori ci sono, sono stati individuati. Abbiamo l'economia sociale, abbiamo l'economia verde, l'economia blu, l'economia circolare. Adesso in questi settori noi dobbiamo prevedere investimenti importanti che diano la possibilità di creare posti di lavoro. Fin quando l'Europa ragiona per trattati, per vincoli e imposizioni non ci riusciamo a uscire da questo avvitamento nel quale ci siamo ritrovati. Un esempio su tutti. Abbiamo chiesto con forza che gli investimenti per la ricostruzione post-sisma nel centro Italia e la mia terra siano svincolati dal patto di stabilità e crescita. Io mi aspetto un'assunzione di responsabilità perché possiamo ricostruire zone devastate e ho incontrato ancora due giorni fa i cittadini di quelle zone, vivono in degli alberghi. E la sola cosa che ti chiedono è di tornare a una vita normale e di ricreare situazioni di normalità nelle quali però si riparte dal lavoro, si riparte dalla dignità del lavoro. Questo va fatto e si può fare solo uscendo da quei vincoli. Grazie.